Like peanut kites, those days and nights went flying by The world was new beneath the blue Se è Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi Scegli di vivere un giorno come questo in un luogo speciale accompagnato da sapori unici Per il tuo pranzo di Pasqua, in famiglia o con gli amici Scegli il ristorante Villa Barberino Per prenotazioni 055 96 18 13